La ginecologia è la branca della medicina che studia l'apparato riproduttivo femminile, vagina, utero, ovaie e tube di falloppio. Il ginecologo si occupa anche di fare visite di controllo, senza la presenza di particolari patologie e di seguire la donna nel suo periodo di gravidanza. Il ginecologo è punto di riferimento per ogni tipo di aspetto riguardante l'apparato genitale femminile, gravidanza, ciclo mestruale, infezioni vaginali. La professione di ginecologo è svolta da coloro che, laureati in medicina e chirurgia, accedono alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia. Il ginecologo deve essere abilitato alla professione con l'iscrizione all'ordine dei medici tramite superamento dell'esame di stato. Può essere utile rivolgersi ad un ginecologo per Prevenzione o controlli periodici Sospetto di patologie con disturbi correlati Monitorare una gravidanza Scelta del metodo contraccettivo più idoneo È bene farsi seguire o consultare un ginecologo in particolare in presenza di questi sintomi Assenza del ciclo e sospetta gravidanza Dolore vaginale Bruciore o prurito intimo Anomalie del ciclo mestruale Perdite vaginali diverse dal solito Perdite di sangue tra un ciclo e l'altro Problemi nel periodo della menopausa Stai cercando il ginecologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it Oppure su www.socialdoctor.it Oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di UMA Innovation Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video Iscriviti a questo canale e condividi Questa è un'idea di UMA Innovation Iscriviti a questo canale e condividi